Ciao ragazzi siamo in compagnia di Alessio e Marco. Chi è Alessio Marco? E chi è Alessio? Alessio è uno che sa pescare. Breve premessa su Alessio. Non devo parlare io di Alessio. Alessio è uno nato al mare che sta in acqua praticamente più tempo che a terra. Allora più che altro appassionato di gommoni. Questo direi che è un signor gommone. Se lo posso chiamare gommone come lo chiamiamo? Non lo so. È un ibrido. È un ibrido. Bene. Siamo a Capomortola. Abbiamo un po' di levante, anche 80 cm d'onda. Ci saranno 10 nodi di vento e andiamo a fare una breve prova. Proviamo il battello. A Bombazza. A Bombazza. Molto bene. Vai. Ci mettiamo contro mare? Ci mettiamo. Ci senti niente. Facciamo giusto il tempo di girare. E' un po' di levante. di soccorso posso anche non guardare davanti se non invece di soccorso dall'Atlantico cosa ti colpisce di più? la stabilità, il comfort? non si prende un porto bene il volere è più stabile lo vedi che non piega è sempre fermo sempre nella sua posizione ci proviamo a favore di mare deve lavorare un po' di trim avendo una chile importante tende a piantarsi un po' dell'olio ci dà sicurezza a questa colla prova a fare una virata stretta anche col trim su non cavita non cavita elicata come diceva Donno sempre ben piantata in mare guarda 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 è una bestia fai quello che vuoi ci fai quello che vuoi ci fai quello che vuoi bello 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 complimenti complimenti bene bene Marco we ho bello si pie no si